Allora Giorgio, già abbiamo parlato di un messaggio che tu hai ricevuto da Gesù per questo Natale, ma hai ricevuto anche un altro messaggio, a parer mio molto importante e molto innovativo, se posso usare questo termine. Praticamente hai avuto un messaggio da Donesis, questo grande essere solare che tu e io chiamiamo il Padre, che ti ha dato quelle che lui stesso chiama le nuove tavole della legge. Vuoi entrare nell'intimità del valore e delle motivazioni di questa azione che il Padre fa? Ma io sono molto contento di questo messaggio che dal punto di vista teologico noi interpretiamo come un messaggio che viene da Dio, lasciatemelo credere, mi riferisco al pubblico laico o addirittura scettico, è la nostra fede e grazie a Dio almeno nella nostra nazione c'è la libertà di fede. Tutti sanno che io sono cristiano cattolico, quindi cattolico nel senso della Chiesa cattolica, ho grande rispetto per il nostro Papa Francesco, però vivo delle esperienze mistiche e in queste esperienze mistiche ci sono questi messaggi che noi crediamo, io il primo, che vengono da Dio, anche da Dio. E in questi precetti o comandamenti sono rimasto veramente molto felice, molto. perché sono comandamenti che invito tutti a leggere, validi anche per un laico, per uno che non contempla Dio, sono sette precetti dove c'è l'esaltazione, ovviamente il primo comandamento è per chi è credente, cioè viene Cristo al centro dell'universo, cioè Dio non parla manco di se stesso, Cristo è al centro dell'universo. Quindi una rottura con i vecchi comandamenti. Dio dice Cristo è al centro dell'universo, cioè mio figlio è Cristo, non io, perché si è fatto uomo. Non c'è Dio senza Cristo, c'è Cristo senza Dio. Quindi Cristo è il rappresentante, la manifestazione di questo Dio invisibile, che il Dio è invisibile. Dio appare a Mosè invisibile in un fuoco ardente, simboleggia la Bibbia, che sto fuoco ardente è niente, cos'è? Niente, è un fuoco che brucia, che può essere tutto una sfera, una sfera aliena, l'immaginazione di Mosè che stava guardando il nulla e pensava di parlare con Dio. Di fatto però Dio dà dei segni a Mosè fisici che era lui, si apre il Mar Rosso, le piaghe d'Egitto, vince la guerra, quattro gatti spelacchiati, tutti schiavi, senza un'arma, vince la guerra contro l'Egitto. Cioè Mosè, tu puoi anche non credere in Dio, ma Mosè ha vinto con quattro disperati la guerra contro l'esercito più potente della terra in quei tempi, dove il mare in qualche modo si inghiotte agli egiziani e gli ebrei si salvano. Quindi, credi o non credi, quelli sono i fatti. Noi pensiamo che sia aperto il Mar Rosso e tutti i miracoli. E quello che la scrittura dice. Quello che la scrittura dice. Oggi, se la scrittura, se Dio ancora esiste, perché non può parlare con qualcuno? Altrimenti, se mi devono dire, Dio si ha parlato a Mosè e basta, ma allora sto Dio è egoista, è un ciarlatano, che parli con uno per sette mila anni e te stai muto, o parli con l'uomo, quello che è più sensibile. E quindi noi pensiamo che Dio parla anche con noi. Ecco, in questi sette precetti la cosa che si esalta e che mi fa tanto felice è che sono laici, sono quasi più laici che il primo comandamento che mi viene dato. è Cristo, è quello, è per i credenti. Ma gli altri sei è una manifestazione pratica della vita, pratica. Cioè, tolleranza, rispetto, perdono. Perdonare i tuoi traditori se si ravvedono e collaborano con la giustizia, nel senso non giudiziare, nel senso di vita. Devi amare il tuo fratello come te stesso. Il vero valore della vita è l'azione. Cioè, Dio stesso dice tu, Dio in questi comandamenti dice, puoi anche non credere in me. Non ci resto male, perché io devo riconoscere le tue opere. Se le tue opere sono cristiche, io ti premio. Magari che tu non mi hai contemplato. Io aggiungo poi per scherzo a te, magari ci da due schiaffi, Dio, ma hai visto che esisto davvero? Però sei stato bravo. E poi parla dell'universo. Scusa, Giorgio, in questo quindi viene ribaltato il ruolo della fede, che ha avuto un ruolo nodale nella storia, secondo quelle che erano gli insegnamenti venuti da Dio. No, Dio dice a chi contempla il valore dello spirito, la fede è il centro dell'universo e Cristo pure. Non puoi servire me se non hai fede, sei fuori. Poi dice, se non hai fede, non ce l'hai, che fa? Ti sparo. Le tue azioni faranno in modo che io possa premiarti nel giudizio e darti ciò che meriti così come lo do a chi ha fede. Questa è la cosa rivoluzionaria, che supera i dieci comandamenti, supera tutte le regole fino adesso date e conferma e avalla il messaggio di Cristo. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli, ma chi fa le azioni, la volontà, entrerà. Quindi non dice chi crede in me, a posto, magari che fa le azioni. No, dice non chi dirà Signore, Signore. Cioè dice io credo in Cristo, a posto. No, solo chi farà le azioni, quindi se il messaggio Dio oggi ha dato avalla al 100% quello che suo figlio nel Vangelo ci dice, ma nessuno mai ci ricorda, perché a noi ci dicono tu ogni domenica vieni a dare un morso a Gesù Cristo con la comunione e sei salvo. Bugia, non è così. Tu il morso a Cristo con la comunione glielo dai per fede e quindi se ti senti cristiano e Cristo entra dentro di te, ma se esci e non fai le azioni ti puoi mangiare centomila cristi, non vai nel Regno dei Cieli. Quindi in questi sette comandamenti la rivoluzione è, in una parola, io questi sette comandamenti li racchiudo in una frase solo, ama il prossimo tuo come te stesso e chi farà le azioni a favore della vita sarà premiato. Il resto a Dio non ci interessa. Gli altri sei sono per i credenti, tutto qua. Quindi hanno un carattere, secondo te, più, diciamo, umanista, sociale? Hanno un carattere universale, alieno se vuoi.